Nuova ordinanza del Ministro della Salute e Speranza che da venerdì non renderà più obbligatorio indossare le mascherine all'aperto, resta però l'obbligo di tenerle sempre in tasca in caso di assembramenti al chiuso almeno fino ad aprile. Stà di pieni al 75% da marzo e discoteche si preparano a riaprire, mentre la curva dell'epidemia continua a scendere e si riducono anche i ricoveri dei bambini. Si attendono invece decisioni riguardo allo stato d'emergenza, quanto al Green Pass possibile progressivo allentamento a partire dalla seconda metà di marzo.